Andiamo per partire anche con la registrazione. Perfetto. Allora andiamo a toccare velocemente questi punti precedenti che sono però la base per capire meglio come articolare un community strategic plan. Allora il primo punto più importante forse anche il più banale è quello che cos'è una community. Definire che cos'è una community. Community sono molte cose. Sono un senso di appartenenza, è un obiettivo comune, sono la collaborazione con altre persone. Per fortuna ci sono anche dei framework che ci permettono di definire in maniera un po' più precisa la community guardandola da diversi punti di vista, da diversi parametri. Uno di questi framework che in genere viene usato è quello chiamato le seven piece of community. Ancora una volta l'ho spiegato molto in dettaglio nel precedente workshop quindi vi invito semplicemente ad andarlo a rivedere. Comunque velocemente questi sono quali sono gli elementi costitutivi di ogni community. Abbiamo le persone, lo scopo, il posto, la partecipazione, le policy, la promozione e le performance. Quindi una volta definiti queste community riuscirete a descrivere abbastanza bene, questi elementi scusate, riuscirete a descrivere abbastanza bene quello che è la vostra community. Sapere quali sono questi elementi è fondamentale per architettare, per costruire un community strategic plan. Quindi per prima cosa abbiate una chiarezza, fate chiarezza su quello che sono questi elementi costitutivi della vostra community. Secondo punto fondamentale per andare poi a lavorare su un community strategic plan è quello di sapere qual è il business value di una community. Ovvero qual è il valore aggiunto che la community porta all'azienda che supporta questo programma community. Chiaramente se voi fate una community per pura passione, diciamo che il business value, come dire, non è la vostra priorità. Lo fate perché vi piace, lo fate perché c'è un ritorno personale, lo fate per mille e mila motivi, lo fate per una sorta di give back. Non lo so perché lo fate, però è soprattutto molto personale qual è la motivazione per cui fate community. Quando però fate community all'interno di un'azienda, diciamo che invece dovrebbe esserci una motivazione molto più precisa. Cioè perché l'azienda investe soldi, risorse per portare avanti una community. Abbiamo sentito da diversi di voi che perché la community è importante, perché oggi come oggi è importante comunque avere una connessione con la base. Ci sono diversi motivi. Però direi che questi sono motivi, soprattutto quando poi dobbiamo andare a fare un po' i conti, a far quadrare il bilancio. Quando qualcuno in azienda deve far quadrare il bilancio, sono motivi un po' labili per sostenere il programma community. E il mio consiglio è che se all'interno della vostra azienda, all'interno della vostra startup, all'interno della vostra società, non avete un motivo chiaro per cui la community esiste, qual è il valore aggiunto che la community porta all'azienda, ecco questo nel lungo periodo potrebbe essere problematico. Quindi prima riuscite a chiarire questo punto e meglio è. Anche qui per fortuna non bisogna partire da zero e inventarsi un business value. Ci sono una serie di modelli che già descrivono quali a grandi linee potrebbero essere. Uno di questi è appunto il modello Spaces, che definisce sei tipi di business value che una community può tornare, può avere per un'azienda. Può essere una community di supporto, può essere quindi per esempio un forum o una community online che risponde a una serie di domande su un prodotto, si colloca come tipologia, come business value, come community di supporto. Può essere una community che ha un business value nel prodotto, ideazione di nuove idee, test di prodotti prima di rilasciarli a tutti gli altri. Una community che ha come business value l'acquisition, ovvero avere degli advocate che parlano dalla propria community ad altri, che portano nuovi clienti oppure nuovi lead o semplicemente nuove persone all'interno del gruppo. Una community di contribution, dove quindi vengono creati, questo è vero per esempio nelle community tecniche, ma anche in altre community, gli utenti della community creano una serie di contenuti che poi giusti, cioè che supportano il prodotto dell'azienda. Nel caso dei community dev, Mike prima citava i GDG, i contenuti tecnici creati da GDG, condivisi sul territorio, e sono comunque un contributo che i GDG portano a quello che sono le tecnologie di Google. Community di engagement, che servono per tenere le persone motivate, quindi per avere, comunque possono essere interne e esterne, possono essere usate all'interno delle aziende, per tenere comunque i dipendenti motivati, partecipativi all'interno dell'azienda, eccetera, oppure anche esterne per un brand, per avere comunque una user base sempre attiva, sempre presente. E alla fine le community di successo sono un po' un'estensione delle community di supporto, che praticamente dove il business value principale è quello di dare ai clienti di un certo prodotto un'opportunità per avere ancora più successo con quel prodotto, quindi una visibilità ancora maggiore di quello che generalmente si otterrebbe nelle community di supporto. Ancora una volta, se andate a vedere la registrazione, c'è un dettaglio con esempi per ognuna di queste community, oggi comunque, giusto per citarvi, ecco, l'importanza di avere chiaro anche il business value che la community porta all'azienda per creare il community strategic plan. Perché questi due elementi sono importanti? Beh, sostanzialmente perché quando da una parte abbiamo il business value, perché la community è l'importante per l'azienda, e dall'altra parte abbiamo la community perché la community è importante per i membri, quando uniamo queste due cose, questa sovrapposizione di interessi da una parte per l'azienda, da una parte per la community, è dove effettivamente noi come community manager dobbiamo agire, dove possiamo fare la nostra magia, dove teniamo i membri motivati e allo stesso tempo facciamo, come dire, otteniamo gli occhiari aziendali, riusciamo a soddisfare gli occhiari aziendali per cui il programma community esiste. Quindi ricordatevi che come community manager dovete lavorare in questo sweet spot e quando questo sweet spot esiste, la vostra community non diventa più un'attività opzionale che è l'azienda, ma diventa un'attività fondamentale, fondante dell'azienda stessa. Vabbè, qui una serie di cose. Quindi come community manager il vostro proprio ruolo è lavorare in questo sweet spot, in questa magica sovrapposizione. E finalmente arriviamo al tema di oggi, come lavorare su questa magica sovrapposizione. Allora, ci sono diverse modalità. Il community strategic plan è una di queste modalità, ovvero vi permette di, una volta che c'è chiarimento sul perché la community esiste, e quindi sul business value, una volta che c'è chiarezza su quali sono i valori, cioè quali sono gli elementi che compongono la community, un community strategic plan è un processo logico di allocazione delle risorse per avere l'impatto maggiore possibile rispetto ai goal della community. Rianalizziamo un attimo la frase perché è abbastanza complessa. È un processo logico quindi di pianificazione e di esecuzione per allocare delle risorse, perché chiaramente se lavorate in un ambito aziendale le risorse sono limitate, le persone che avete a disposizione, magari siete solo voi, il budget che avete a disposizione, le attività che potete organizzare, il numero di attività, l'interesse dei membri della community verso quello che vi proponete è un'altra risorsa da considerare. Quindi è un processo per organizzare tutte queste risorse e ottenere il maggior impatto possibile rispetto a quelli che sono gli obiettivi della community. Chiaramente voi come community manager ci sono così tante attività da fare ogni singolo giorno con la community, che potreste tranquillamente passare tutta la vostra vita da community manager a star dietro la community, a seguire quello che la community vi chiede di fare. Alcuni lo fanno, fattibile, eccetera. Ma è ben diverso quando voi invece iniziate a capire cosa serve alla community, all'azienda da una parte, alla community dall'altra, per lavorare in questo sweet spot. Quindi non siete più voi a seguire la community, ma è la community che inizia a seguire quello che volete fare, quello che pensate sia importante fare. Siete voi che non siete più soltanto dei moderatori o dei, come dire, delle persone che coinvolgono, ma siete degli architetti della community. Iniziate a pensare a come farla crescere, iniziate ad avere una visione strategica di lungo periodo. Oggi siamo qui, domani questo è quello che voglio diventare. Ho visto questa cosa bellissima da questa parte, questo esempio fantastico di questa community, voglio riportarlo anche all'interno della mia community. Community Strategic Plan è un modo per arrivare a questo approccio, la community, un approccio appunto da architetto, non più da persona che comunque segue quello che la community richiede di fare. Andiamo a vedere sei elementi fondanti di ogni community strategic plan. By the way, parleremo adesso un po' della teoria, dopodiché negli ultimi venti minuti, mezz'oretta, faremo un po' di pratica. Quindi, come dire, prendete appunti perché poi faremo il nostro community strategic plan. Vedendo quanti siamo, secondo me ci potremmo tranquillamente dividere in gruppetti, in un paio di gruppetti e iniziare un po' a pensare a fare un po' di prove e ragionare un po' su questi elementi. Quindi, primo elemento del community strategic plan è quello dei goal, degli obiettivi. Quello che l'azienda, comunque l'azienda, vuole ottenere dalla community. Vi ricordate quando vi dicevo il business value? Esattamente. Il primo elemento indispensabile del community strategic plan. Che cosa vogliamo ottenere? Qual è l'obiettivo che vogliamo massimizzare? Questa cosa qui, chiaramente, poi la vedremo nel dettaglio, non deve venire solo necessariamente da voi, perché se non c'è condivisione nel goal con l'azienda, c'è comunque una specie di un potenziale di disallineamento. Voi fate delle cose, la community fa delle cose, ma l'azienda non vede valore in quello che state facendo. Quindi è fondamentale avere dei goal ben organizzati con il resto della, cioè ben coordinati con il resto dell'azienda. Questi goal possono cambiare? Sì. Diciamo che a livello anche proprio di project planning, generalmente gli obiettivi cambiano un po' meno spesso, mentre le tattiche cambiano più spesso e magari gli obiettivi rimangono gli stessi nel tempo, mentre le tattiche cambiano e permettono di raggiungere in maniera sempre più diversa, sempre più efficace quelli che sono gli obiettivi. Quindi i goal sono il primo elemento di un community strategic plan da tenere in considerazione e comunque devono essere necessariamente architettati insieme con l'azienda. Poi abbiamo il secondo elemento, che sono gli obiettivi, ovvero quali sono i comportamenti che noi vogliamo vedere fatti dai membri per ottenere quel goal. Alla fine la community, ci sono tanti modi per vedere la community. Uno dei modi per vederla, magari poco romantico, ma sicuramente pragmatico, è come un enorme influencer, ovvero quando le persone fanno parte, iniziano a partecipare a una community, è vero che sono liberi di fare sostanzialmente quello che vogliono, però la community dà una direzione su quelle che sono le aspettative dei membri. Qui si parla di cucina. Tu potresti anche essere un fioraio e appassionarti di fiori, però in quella community parli di cucina, quindi già un po' in qualche modo sto indirizzando la tua attenzione e le due attività. Qui si parla di cucina in questo modo, quindi sto già dando una serie di elementi che definiscono ancora meglio come comportarsi. Adesso qui ci aspettiamo che tutti pubblichino una ricetta. Eccolo qui, sto attivamente influenzando un comportamento dei membri. Perché lo faccio? Questo poi lo vedremo meglio. Cioè, perché lo faccio? È l'obiettivo che lo definisce. Quindi quali sono i comportamenti che voglio vedere per raggiungere gli obiettivi. Poi vedremo anche un po' di esempi per creare meglio queste cose qui. Però comunque ricordatevi che sono tutti elementi collegati a cascata, quindi si parte dai goal, poi andiamo negli obiettivi e dopo gli obiettivi cosa definiamo? Definiamo la strategia, ovvero cosa fare per ottenere quegli obiettivi. Quindi ho definito un goal, ho capito quale deve essere il comportamento dei membri per ottenere quel goal. Cosa devo fare per mettere in modo questo comportamento? La strategia è la parte più umana di tutto il community management, perché qui entro in gioco proprio le emozioni delle persone. Su quali emozioni faccio leva per stimolare questi comportamenti che vorrei vedere negli obiettivi e qui è dove entra anche molto in gioco la vostra personale conoscenza della community. È difficile fare una strategia se uno non conosce una community. I goal più o meno potrebbero rimanere costanti. Gli obiettivi a volte sono generati al buon senso, ma se non conoscete la community la strategia non riuscite a farla. Quindi è molto importante sapere chi sono i membri, cosa li motiva, quali sono anche le leve che gli spingono a comportarsi in un certo modo, a partecipare alla community, fino a dove vi potete spingere. Ci sono alcune community che sono molto piccole, sono anche con i membri che sono lì da molto tempo e quindi hanno un livello di coinvolgimento molto più alto. Potete far leva su delle strategie che richiedono molto più tempo, molto più coinvolgimento. Chiaramente una community ex nova non potete chiedere ai membri di fare chissà che cosa, perché non ve lo faranno, perché sono appena arrivati. Quindi la strategia è dove veramente riuscite, cioè dove dovete essere molto bravi a conoscere quello che è lo specifico della vostra community. Ci sono domande fino a qui? Facciamo un piccolo stop sui primi tre punti. Sì, Alfredo, vorrei fartene una io. Non mi è chiarissimo proprio la differenza tra i goals e gli obiettivi. Allora, i goal sono quelli che vengono stabiliti a livello aziendale. Gli obiettivi sono i comportamenti che tu vuoi vedere per ottenere quei goal. Per esempio, a livello aziendale voglio avere più persone che parlano del mio prodotto. Ok? Voglio avere, diciamo, facciamo una, guarda, senza che vado, perché nelle slide dopo ci sono un po' di esempi in cui ti spiego tutto. Però, allora aspettiamo, dai, che così almeno secondo me rimane un po' più chiaro. Comunque, i goal è un qualche cosa stabilito dall'azienda e l'obiettivo di alto livello. L'obiettivo, l'occhiare di alto livello. Gli obiettivi sono i comportamenti che tu devi mettere in modo per ottenere quel goal lì. Ok? Altra domanda? Un'altra? Good. Andiamo avanti. Allora, goal, obiettivi, strategie. Tattiche. Le tattiche sono le attività specifiche che dovete fare per mettere in campo quella strategia. Quindi è proprio l'azione. La tattica è spesso un verbo di azione. Mentre nella strategia c'è più una parte di impatto emotivo su che cosa volete far leva, la tattica è il verbo di azione. Cosa dovete fare? Quindi, le tattiche, anche qui, sono, dipendono dalle specifiche situazioni e c'è tutto, ci può star tutto che goal, obiettivi e strategie rimangono uguali mentre le tattiche vengono cambiate nel tempo. Magari vengono ottimizzate, magari sapete che dovete fare una, due, tre cose, una dopo l'altra per ottenere finalmente quel, quella, per ottenere effettivamente quel, quel cambio di comportamento che vi porta a raggiungere quei goal. Quindi le tattiche sono la parte, come dire, un po' più flessibile di tutto il community strategic plan, possono cambiare, possono essere ottimizzate, possono essere anche, eh no, questa proprio non funziona, torniamo alla lavagna e ridisegniamola un'altra volta. Poi abbiamo il piano. Il piano, questa è una parte un po' più programmatica, ovvero, perfetto, abbiamo capito cosa dobbiamo fare, capiamo quando farlo, quindi mettiamo giù chi lo fa, quando lo fa, le risorse a disposizione, se lavorate in un team il piano è dove coordinate anche il team che ci lavora, se lavorate da soli, spesso e volentieri, una volta che avete fatto le tattiche, avete già anche un piano in mente, se avete più tattiche che dovete eseguire, il piano vi dice quando farle, come farle, eccetera, eccetera, quindi il piano è proprio come dire la calendarizzazione tra virgolette di quelle che sono tutto il resto delle altre attività che sono poi le tattiche e infine abbiamo il miglioramento. È chiaro che tutto questo funziona, ma se poi non misuriamo l'impatto è una cosa che ci raccontiamo un po' a noi stessi. Funziona? È veramente riuscito a portare i goal che volevamo ottenere? Di quanto ha mosso il lago della bilancia? Quali sono i dati necessari che ci servono per capire se quello che stiamo facendo è ben fatto? Quindi nella parte di improvement è dove fate tutta la misurazione per perché poi fate la misurazione appunto per capire come poter far meglio la prossima volta. La prossima volta non significa necessariamente al prossimo, alla prossima versione del community strategic plan. La prossima volta magari può anche significare la prossima volta che metto in piedi quella tattica lì ho una serie di misurazioni iniziali che mi permettono di ottimizzarla, quindi anche un costante processo di miglioramento e infatti il community strategic plan è molto iterativo. ha un'iterazione molto veloce a partire dalle tattiche un po' meno veloce sulle strategie ancora meno veloce sugli obiettivi abbastanza statico sui goal però comunque considerate che è un organismo vivente perché la community vive perché la community cambia perché voi cambiate perché la vostra conoscenza della community cambia e quindi gli strumenti che usate per gestire la community anche devono diflettere questa cosa qui altrimenti saremo fermi in una specie di staticità infinita. andiamo a vedere un po' di esempi specifici ok? così magari riusciamo a chiarire meglio il tutto allora uno dei goal è aumentare la retention rate dei nostri customer ok? quindi fare in modo che le persone una volta scelto il prodotto rimangano più tempo possibile utilizzare questo nostro prodotto ok? è un goal abbastanza chiaro come vedete è molto connesso con degli obiettivi aziendali e tendenzialmente messo così non ha niente a che fare con la community però è uno degli obiettivi che la community ha per l'azienda quindi questo Antonio spero che anche chiarisce anche un attimo come che cos'è un goal come può essere fatto poi andiamo a vedere l'obiettivo ricordate gli obiettivi sono i comportamenti che vogliamo vedere per fare per raggiungere il goal che ci siamo dati in questo caso un obiettivo potrebbe essere la condivisione dei membri delle loro best practice dei loro dei loro migliori consigli nell'uso del prodotto perché perché quando una persona è esposta a il modo migliore di utilizzare un prodotto diventa un utente pro e quando sei un utente pro generalmente continua a utilizzare quel prodotto succede spesso e volentieri che uno arriva su un prodotto poi il primo bounce rate è subito cioè ok non è quello che mi serve oppure non ho capito bene come utilizzarlo e quindi poi uno si stacca però poi quando inizia a impararlo quando lo impara a utilizzare quando inizia a costruirci sopra la propria la propria attività e tutto allora diventa sempre più attaccato a quel prodotto lì e difficilmente poi si stacca quindi avere dei membri della community che condividono le loro best practices i loro modi migliori di utilizzare il prodotto significa come dire professionalizzare un po' tutta la community nell'uso del prodotto e quindi grazie a questa professionalizzazione avere membri che rimangono aumentare la retention rate dei membri chiaro Antonio ti è un po' più chiaro adesso sì guarda ho capito la differenza tra i due piani poi dopo comunque abbiamo un altro paio di esempi quindi se questo non è lampante continueremo come dire di esempio in esempio chiariremo meglio di cui stiamo parlando grazie strategia ricordate strategia sono le emozioni su cui far leva per ottenere quei comportamenti vedete come comunque obiettivo comunque è un comportamento specifico strategia allora vogliamo che le persone condividano queste loro best practices perché si sentono come dire vogliono emulare i migliori della community sono gelosi dei migliori della community vogliono essere anche loro considerati dei pro nell'utilizzo del prodotto quindi questa è l'emozione su cui vogliamo far leva ora le emozioni come sapete possono essere sia in positivo che in negativo in questo caso uno può vedere gelosia come un'emozione negativa però sappiamo anche che la gelosia è un attivatore importante per alcuni comportamenti se vista in un modo benevolo non in un modo morboso quindi siccome io come dire ammiro chi è che è le persone più brave della community ammiro l'attività che fanno quanti ne sanno e tutto anch'io voglio sentirmi parte di questo gruppo sono geloso di loro voglio voglio farne parte anch'io quindi anch'io mi attivo per iniziare a creare dei tip per condividere le mie i miei suggerimenti migliori e quindi faccio questa attività qui inizio anch'io a produrre contenuti di qualità da condividere con gli altri qual è la tattica che mi può permettere di attivare questa cosa qui per esempio fare delle interviste e qui come come vedete anche entrate in gioco voi spesso come mi piace nelle tattiche fare delle interviste con i top member della community magari organizzare dei webinar magari comunque chiedere a qualcuno di parlare a degli eventi quindi creare una serie di comportamenti favorire una serie di comportamenti che appunto portano alla condivisione di queste best practices portano alla creazione di questi top user che quindi condividono le loro best practices e qui vedete entrate proprio in gioco voi dove la vostra il vostro tocco fa la differenza action plan come vi dicevo prima è calendarizzare tutto quello che fare ok qual è il costo non so di organizzare una conferenza piuttosto che di fare un webinar piuttosto che di organizzare una serie di interviste chi è che lo potrebbe fare quindi metto giù il piano per attivare questa questa tattica qui e l'improvement potrebbe essere misurare il reach dell'interview vedere quali sono i temi che sono più utilizzati più visti verso quelli meno visti vedere quanto effettivamente le persone si sentono ispirate da queste interviste grazie a queste interviste nuove persone mi chiedono di essere intervistate e così via quindi come vedete inizia a filare abbastanza bene come vedete siamo passati dal goal che sembra quasi molto di alto livello per una community incrementare il customer retention rate a un piano specifico fare delle interviste chiedere dei soldi all'azienda per registrare qualche cosa e spiegare all'azienda perché è importante attraverso le tattiche la strategia e l'obiettivo e anche voi come community manager sapete perché state chiedendo ai vostri membri non è che vi va di produrre un po' di contenuti pro ehi facciamo tipo i dieci contenuti pro della settimana insomma poi dopo le tattiche possono essere milioni qui vi dico è importante la vostra conoscenza della community però vedete come state guidando la community verso un certo obiettivo e non siete soltanto quelli che dicono che bel post che ha scritto questa persona sull'uso avanzato di questo prodotto mettiamolo in evidenza perché lo fai o non lo so perché è semplicemente carino mettere in evidenza una persona ok è proprio diverso è proprio strategicamente diverso l'approccio a come lavorate nella community vediamo un altro esempio migliorare la health and well-being of members quindi per una community voglio che i nuovi membri di questa community abbiano diciamo come dire la loro salute e il benessere siano comunque migliori li voglio migliorare andiamo a vedere semplicemente quelli che sono obiettivi strategie e tattiche poi scrippiamo la parte di plan e di improvements perché insomma poi il plan è anche molto personale quindi magari già metterlo come esempio avrebbe poco senso potremmo per esempio e pensate che è una community sul benessere una community di corridori non so una roba del genere come esempio quindi voglio che tutti i nuovi membri si sentano meglio nel far parte di questa community allora potrei chiedere nuovi membri qual è il comportamento quello di chiedere nuovi membri di impostare degli obiettivi e di condividere i progressi su una serie un percorso salute che stanno facendo piuttosto che se stanno nuovi corridori magari quanto riescono a correre sempre di più eccetera e la strategia l'emozione è quella di far sentire i membri orgogliosi di riuscire a in questa gara con loro stessi di riuscire comunque a stare dietro a questa gara con loro stessi e con gli altri membri della community e quindi questa proprio questa l'emozione questa è l'emozione su cui voglio puntare la tattica beh a questo punto potrei usare dei tool di gamification potrei dare dei badge potrei dare potrei fare delle leaderboard potrei comunque creare delle dei messaggi di alcuni membri che motivano gli altri insomma vedete come poi possono succedere tante cose comunque il goal rimane quello abbastanza fisso e poi più scendono specifico e più ho diverse possibilità diverse attività il community strategic plan è anche importante per questo perché nella moltitudine di cose che possiamo fare vado a scegliere quelle che secondo me hanno l'impatto maggiore vi ricordate la definizione iniziale altro esempio ah ok scusate altro esempio con lo stesso goal quindi sempre lo stesso goal dell'aumentare il benessere dei nuovi membri che arrivano su una community questa volta come obiettivo lo cambiamo quindi avere i top member della community che rispondono alle domande e condividono le loro esperienze magari in questo caso potrebbe essere una community con persone che hanno dei problemi loro personalmente o i loro familiari hanno dei problemi di salute e quindi si rivolgono a questa community per trovare supporto quindi in questo caso magari una buona attività è quella di offrire supporto a queste persone per farle sentire meglio e quindi per esempio la strategia è qual è l'emozione la strategia è il senso di gioia nel give back il senso di gioia nel supportare gli altri e anche come dire per i membri che sono che hanno già superato sono già stati attraverso questa fase di difficoltà essere per la bellezza del poter condividere con gli altri le loro esperienze e essere di supporto come magari loro come magari con loro qualcuno è stato di supporto al loro tempo e anche qui le tattiche uno potrebbe fare un progetto un programma di mentorship e ogni membro viene comunque gli si identificano per ogni membro i loro superpoteri come puoi condividere con il gruppo insomma anche qui poi potete trovare qualche cosa da fare quindi vedete come lo stesso identico tipo di goal declinato in due community diverse mi porta poi obiettivi strategie tattiche è tutto completamente diverso gli ultimi due punti prima di fare un po' poi passare i nostri esercizi allora due suggerimenti anzi tre suggerimenti che vi do il primo come identificare la target audience come abbiamo visto una volta il goal una volta settato il goal l'obiettivo è il comportamento dei membri della community chiaramente non è che sono tutti membri della community ogni volta spesso e volentieri vado per diverse target audience questa volta penso a questo gruppo di membri della community questa volta penso a quest'altro gruppo di membri ed è lì dove per esempio la definizione sulle serve MP della community vi aiuta chi c'è all'interno della mia community quali sono i membri della mia community oppure le personas che molti fanno delle proprie community capite un po' voi poi come state a dirle comunque c'è questa matrice molto interessante che mi parla di in base a quello che voglio fare qual è il tipo di audience che devo andare un po' a targettizzare per esempio se voglio crescere la mia community come potete vedere è la parte il quadratino in alto a destra sto targettizzando i nuovi user con capitalizzando su dei comportamenti che loro già fanno quindi non ti sto dicendo ehi guarda questa è la community tu sei uno che cucina quindi un comportamento già messo in atto e tu sei uno che cucina questa è una community per tutte le persone che cucinano dove si condividono ricette state cercando di crescere questa è una growth strategy quindi vi state riferendo a nuovi utenti che hanno già dei comportamenti esistenti se invece volete capitalizzare su degli utenti esistenti e su dei comportamenti che già fanno vi ricordate i top members che dicevamo prima se volete capitalizzare ancora di più sui loro comportamenti allora state definendo una strategia di coinvolgimento volete coinvolgerli ancora di più volete far leva su dei comportamenti che già loro hanno già i membri della vostra community hanno all'interno della vostra community all'opposto sempre con riferendo ai membri della vostra community potete avere una strategia di persuasione ovvero portare dei membri a fare dei comportamenti che fino ad oggi non hanno fatto perché magari volete creare una nuova user base di top contributor e quindi dite ok chi è già top contributor continua a farlo però adesso mi sto rivolgendo a chi ancora non lo è quindi vorrei supportare alcuni comportamenti di questo gruppo di community member che già esistono per far diventare anche loro top contributor e infine l'ultima target strategia è quella del lancio o dell'apertura completamente e dici ok ho questa idea in mente oppure voglio includere voglio cambiare un po' l'obiettivo della community voglio estenderlo quindi mi sto riferendo a nuovi membri per nuovi comportamenti e quindi è qui dove proprio la zona di esplorazione è una zona un po' più indefinita secondo trucchettino è quello quando definiamo gli obiettivi parliamo di emozioni ci sono le ruote le emotion wheel ovvero una ruota che descrive un ampio spettro di emozioni a cui una persona può essere soggetta con diversi livelli di granularità a secondo del tipo di ruota che state adottando che però vi permette di partire da emozioni molto di base gioia come vedete qui gioia rabbia eccetera e poi andare a dettagliare sempre più nello specifico sempre più nello specifico l'emozione che volete targettizzare perché dire voglio far leva sulla gioia dei miei partecipanti a mia community è un target molto vago cercate di definire meglio che cos'è questa gioia e ancora di più e quindi già arrivate come dire al secondo livello al secondo cerchio quello più diciamo centrale di questa ruota e potete addirittura arrivare a quello più esterno per andare proprio a targettizzare una specifica specifica emozione magari potete dire ok facciamo una strategia che come dire fa leva sulla parte di gioia la parte di sentirsi come in grado di fare qualche cosa quindi qui leggo tipo powerful e vedete che ci sono già due sotto emozioni quindi potremmo fare poi una cosa specifica per l'una e per l'altra emozione e vedere come queste quindi il tempo vanno avanti e l'ultimo consiglio che vi do è quello di cercate quando fate una tattica fermatevi e cercate di portare la tattica al massimo livello possibile domandatevi ma se questa cosa qui la facessi al 10.000% che cosa succederebbe quindi per esempio non è più intervistare i top member della community ma diventa fare una serie di interviste filmate professionalmente con i top expert pubblicarle con un formato professionale all'interno di un canale youtube che metto su vedete come intervistare i top member che è comunque una tattica valida se la massimizzo dove mi porta magari fare questa cosa qui chiaramente richiede molto più tempo ma potrebbe avere un impatto molto maggiore perché non si sentono soltanto più intervistati i top member ma si sentono parte di una roba ancora più figa ancora più interessante creare un gruppo di customer per indirizzare un po' le scelte del prodotto business value prodotto facciamo andare a parlare questi top member di questo consiglio con il nostro CEO facciamoli interagire direttamente con chi è che sviluppa il prodotto diamogli una voce e una voce ben percepita all'interno dell'azienda chiaramente un conto è che queste persone parlano tra loro in questo consiglio un conto è che vengono esposte a queste ruoli importanti all'interno dell'azienda c'è un livello di coinvolgimento completamente diverso potete chiedere a queste persone molto di più se gli date queste opportunità quindi vedete come a volte come dire pensare in grande il moonshot in realtà vi porta poi anche ad ottenere dei vantaggi molto più importanti e l'ultimo invece per esempio di scrivere un nuovo post pubblichiamo un ebook della community proviamo con questo progetto chiaramente è più lungo è più rischioso richiede molto più coinvolgimento da parte di più persone però è un progetto che ha una visione completamente diversa dal dire scriviamo una serie di nuovi post e poi vediamo quello che succede invece di favorire delle nuove discussioni addirittura provare con creare dei panel online con una serie di attività di ampio respiro insomma vedete voi che cosa significa massimizzare la tattica però provateci perché bisogna comunque avere coraggio nel gestire una comunità questa è una cosa abbastanza conosciuta allora io più o meno avrei finito con la parte teorica quindi domande e poi iniziamo un po' con gli esercizi che dite? per me va bene avete domande da fare? Alfredo ti posso chiedere se mi puoi fare un esempio di targetizzare un'emozione nello specifico magari in base alla tua esperienza guarda quella secondo me per esempio dipende sempre dal tipo di community che hai però ti direi che per esempio l'esempio che abbiamo visto del far leva sul give back all'interno della community ci sono molti motivi per cui una persona fa give back potrebbe farlo per un genuino senso di omologazione cioè no omologazione scusami quando io mi sono rivolto a questa community perché avevo una difficoltà qualcuno mi ha aiutato spontaneamente e questa cosa qui mi ha cioè qualcuno si è avvicinato a me mi ha aiutato e questa cosa qui ha avuto un impatto positivo su di me adesso io voglio fare la stessa cosa per rifare give back come è successo a me voglio farlo succedere anche ad altri perché ho visto l'impatto positivo che ha avuto su di me quando ero io la persona ad essere aiutata e qualcun altro si è avvicinato a me quindi questa emozione è molto importante e generalmente puntare sulle emozioni negative non è una buona cosa però facendo un estremo la competizione nei team sportivi una fortissima coesione interna per favorire al massimo la competizione esterna quindi cerchiamo cerchiamo di come dire far leva sul senso di competizione che hanno gli atleti di una squadra in modo tale che tra di loro poi creino coesione quindi poi questa devi un po' vederla bene perché sai poi se favorisci troppo la competizione ti inizi a diventare anche competitivi dentro la squadra però comunque potrebbe essere un'altra emozione un po' più negativa un po' più pericolosa su cui poter far leva lavorare anche lavorare anche su magari emozioni contrapposte cioè lavorare su un'emozione negativa per far suscitare un senso di cerchiamo di fare invece il meglio cioè comunicare questo ti direi l'obiettivo alla fine è l'emozione positiva poi il modo in cui lo ottieni la tattica allora vuoi dire guardate quante non so la community ci penso adesso un esempio la community retake quelli che comunque vanno in giro e puliscono diversi quartieri o mettono a posto i parchi tu comunque fai leva su un'emozione positiva voglio trovarmi bene quando giro voglio essere orgoglioso del mio quartiere quando qualcuno viene a visitarlo voglio essere sicuro che se i miei figli vadano in giro non trovino cose sporche per terra o cose pericolose per terra quindi tu fai sempre leva su un'emozione positiva quella negativa potrebbe essere nella tattica ti faccio vedere un servizio fotografico di una persona che mi fa vedere quanto schifo c'è nel mio quartiere e quindi porto poi le persone a dire facciamo qualche cosa per pulirlo quindi nella tattica fai venire fuori la cosa un po' negativa però il tuo obiettivo cioè scusi il tuo obiettivo la tua strategia punta su un'emozione positiva che è appunto quella del senso di orgoglio piuttosto che quello del senso di sicurezza per la propria famiglia perfetto grazie anche io ho una domanda sulle emozioni mi è piaciuto mi è piaciuto quando hai fatto riferimento all'emozione del sentirsi cioè del trarre beneficio del dare supporto a un altro membro della propria community nella tua esperienza hai degli esempi o qualcosa insomma che mi possa ispirare un po' per approfondire questo sì guarda ci sono tantissimi modi di offrire supporto ti ripeto molto dipende anche dal tipo di community che sta targettizzando perché è chiaro che se hai una community che come obiettivo che come people ha quello di familiari di persone malate di Alzheimer per dirti è un tipo di solidarietà molto diversa rispetto magari non so a una community di sviluppatori che vogliono imparare meglio come utilizzare una tecnologia quindi puoi sempre far leva sul supporto sul give back ma capisci che le persone della community sono completamente diverse quindi anche lì devi fare un po' più attenzione però ti direi che puoi far leva su questa strategia magari puntando sul cioè scusa puoi far leva su questo obiettivo quindi il comportamento che puoi vedere è le persone che danno supporto ad altri membri della community alcuni membri della community che danno supporto ad altri membri della community questo è proprio l'obiettivo il comportamento che puoi vedere qual è la strategia qual è l'emozione dipende può esserci un senso di orgoglio io sono vengo considerato l'esperto della community e quindi cerco di condividere quanto più possibile quello che so ma soprattutto studio e rimango sempre sul pezzo per continuare a essere per continuare a essere considerato l'esperto quindi c'è un senso d'orgoglio voglio aiutare qualcuno a fare i primi passi verso una nuova tecnologia quindi c'è un senso un po' più di give back c'è un senso di assistenza c'è un senso anche che magari puoi puntare ti ricordi tu quando hai dovuto iniziare che non sapevi dove mettere le mani e soltanto grazie al consiglio di questa persona qui che ti ha salvato tre giorni e che ti ha dato le dritte giuste sei oggi dove sei quindi perché non fai un po' di give back quindi l'emozione è diversa però il modo in cui lo ottieni è lo stesso cioè il modo in cui poi vai la strategia scusa l'obiettivo che stai ottenendo è lo stesso c'è qualcuno che invece è un po' più per lo scoprire le cose quindi invece di dare supporto sono quello che prova tutte le nuove feature sono quello che comunque ti dice le cose i parametri più le configurazioni più esoteriche perché perché ho una una genuina emozione nell'esplorare voglio voglio essere considerato l'esploratore della community quello che va sempre a cercare strade nuove che porta informazioni nuove e quindi poi fa give back quindi tre modi per cui i membri si supportano tra di loro con lo stesso goal obiettivi leggermente diversi strategie completamente diverse grazie altre domande allora io direi che possiamo innanzitutto fermare la registrazione visto che tanto poi andiamo grazie a tutti